Come è fatta l'esigenza del cavaliere, ma soprattutto l'esigenza del cavallo? Guarda, non esistono selle buone o cattive, esistono selle giuste o sbagliate. Perciò la scelta della pelle per noi è primaria. Perciò la scelta della pelle per noi è la scelta della pelle. Perciò vi chiedo anche da amatore, cavaliere e da chirurgico nel momento che c'è un problema cercate di essere vigili fino all'ultimo momento. Se riesco a giro dentro sono fuori, no, 4 galotti, vedo dove girare, 11 la gabbia. Esatto, esatto, perfetto. Perciò la scelta della pelle per noi è la scelta della pelle per noi è la scelta della pelle. Perciò la scelta della pelle per noi è la scelta della pelle per noi è la scelta della pelle.